Io ho avuto un ictus due anni fa e insomma mi hanno ripreso i capelli, sono un uomo fortunato dice, a me sembrava di avere sfortuna perché mi è venuto l'ictus, se ero fortunato non mi veniva, però io sono stato tre giorni con i dottori che mi guardavano e io gli provavo a chiedere con la bocca storta perché ero messo male, ma vivo, muoio, rimango bene, rimango male e questi mi facevano, bisogna aspettare, bisogna aspettare, perché che cosa vuol dire? Che anche loro non sapevano che cazzo fare, parliamoci chiaro, a quel punto lì cosa fai? Anche te come l'affronti la cosa? O ti butti nella religione e cominci a vedere il padre Pio, o razionalmente tu dici, aspettiamo, che devo fare? D'altra parte, cerchiamo di fare il possibile per vedere, i dottori, gli infermieri ti diano, fai chi fa la, tu provi a fare delle cose lì per vedere se la sfanghi, l'ho sfangata, però voglio dire, tu capisci che tutta questa tecnologia, io ero attaccavo con tutte le macchinine, facevano tutti i rumorini, i fischini, appena la pressione la superava un po', la suonava quello, appena la glicemia la suonava che l'altro, però di fatto nessuno era in grado di dirmi come io ne sarei riuscito, di fatto il problema è questo qui, io ero in mezzo a una tecnologia assoluta, tutti super preparati, tutti portati, però io lì per tre giorni, fino a che non è passato il periodo dell'ictus, che hanno capito che l'emorragia si era fermata e che piano piano stava, adesso si stava riassorbendo piano piano, nessuno è stato un grado di dirmi, a quel punto lì io ero un uomo medievale e aspettare che arrivasse la peste, capito il discorso? E quindi è la differenza, non c'è nessuna differenza, io in quel momento lì ero un uomo medievale, perché tutta la tecnologia non mi rispondeva alla mia domanda che fine fa? E questi dicono, bisogna vedere, aspettiamo domani perché beviamo, ora si rifà l'analisi, allora se non mi dai una risposta di tutta la tecnologia, che cazzo ne frega fare in parole povere, non mi interessa niente, io voglio sapere se vivo o se muoio, e in immediato però sì, secondo me non è che sia stata riscoperta, la gente si è resa conto che tutta l'evoluzione tecnica non risolve, perché l'essere umano è un animale strano, capito il discorso? Vedi questa mania di andare a ricercare mangiari antichi o cose di questo tipo? Io ti faccio un esempio semplice, io sono di famiglia contadina, non so te se tu sei di origine nobile, io sono di famiglia contadina, artigiana e contadina, però che è successo? Per esempio, io mi ricordo a casa mia, però sono nato cittadino, sono nato io a Firenze, però vivo a Firenze, quando si faceva la panzanella, si faceva, a mia mamma ci metteva un po' di roba, pomodori, cetrioli, poi dopo a volte ci metteva anche cosa, dei fisellini, della roba per arricchirla in maniera, avevo una decina d'anni e sono stato ospite dei miei parenti di Mugello, a quel tempo erano rimasti proprio a contadini, contadini, avevano ancora le mucche nella stalla, erano contadini vecchio tipo, che un giorno mi dissero, diceva a voi, che ti va bene se si fa la panzanella, loro si chiamano pammolle, ti piace il pammolle? Esatto, e gli dissi, sì, a me mi piace, perché a me venne in mente il pammolle, la mia mamma era abituata, e mi feceri pammolle, per lì rimasi male, però io ora ho quasi 60 anni, mi ricordo di questo pammolle, perché loro fecero il pammolle come era in medioevo, pane duro, ma di quello duro davvero, pane preso, pane duro, cipolla, olio e aceto, finito, quello era il pammolle, che io dicevo, Dio Panno, ma non c'è, non c'è un pomodoruccio, un po' di cetriolo, nulla, non c'è una sedia, però con il pane buono, con l'olio buono e con la cipolla, io ancora a 60 anni mi ricordo il sapore di pammolle, ecco perché secondo me c'è anche questo discorso qui, perché ribadisco, la tecnologia la ti dà una grande cosa, ma non risolve nulla di quelli che sono i tuoi problemi interiori, insieme al ricordo di una bella giornata passata da parenti, con gli amici, con i cugini, a giocare nel campo di grano, in mezzo alla correre tra gli animali, io mi rammento ancora di questo pammolle, che penso sia una delle cose più misere che ci potesse essere, pane duro, sciolto nell'acqua, strizzato, olio, cipolla, punto, e aceto, e una fogliolina di basilico per chi ci aveva all'orto, ecco questo per dire, ecco perché secondo me c'è anche questa cosa, se te tu va a vedere quello che, quello che mangiavano in medioevo, e non c'era né peperone, non c'era né patata, non c'era né pomodoro, non c'era niente, c'era solo cipolle, cipolle, addirittura gli animali gli farcivano con le albicocche, con il miele, io non so se voi ce l'avete ancora, qui in Toscana c'è una ricetta che si chiama la famosa lepre in dolce e forte, che fanno, cucinano questa lepre con il sugo normale, con il battuto, e poi dopo cioccolata, cioccolata, pinoli, uvetta, c'è ogni cosa dentro, se non l'avete mai mangiata, non avete idea di quello che può essere un piatto di 1300, perché non c'era niente, non c'era pomodori, non c'era patate, non c'era nulla, tutto è arrivato dopo il 1492, prima la gente o cacciagione, o pane, o cipolle, albicocche, cioè quella pere, mele, ora come ora, mangiare a quei sapori lì non ci si abitua, perché noi siamo abitati troppo con la patatina fritta, o il ketchup, per noi, eppure, ecco perché c'è questa, io lo vedo, la gente anche quando la dice, ho fatto la pasta, questa volta ho preso la farina, sono andato a pigliare la macinata, non l'ho comprata, sta cambiando questo discorso, c'è una ricerca dei legami che però purtroppo secondo me è l'effimera, nel senso che non è possibile nemmeno, cioè non c'è nemmeno la quantità di questi materiali per accontentare tutti, capito che discorso? Noi abbiamo delle fonti molto antiche, che però sono rare e vengono diciamo da contesti diversi, per cui non si sa nemmeno che peso reale dargli a queste fonti, in questo senso che ci sa le immagini che si vede, poi abbiamo le musiche, cioè questi antifonari famosi, prima cominciarono con il tetragramma, c'erano quattro righe con le note varie messe sui cosi, poi venne il pentagramma, quello dove ora noi si mette le sette note, però si tratta di libri, quelli che scrivevano questi libri scrivevano delle teorie, oppure delle dimostrazioni scientifiche di quello che loro avevano visto, che però quello che loro avevano visto era limitatissimo nello spazio e nel tempo, nel senso che noi ora, sa la fortuna se attacchi i computer e ci sa il mondo sotto le mani, noi si può andare a vedere che cosa dice uno in Thailandia della liuteria antica, quello che dice in Cile uno, un indio che parla dei suoi strumenti musicali, quindi ci sa un'idea precisa di tutto quello che il mondo è e se uno veramente vuole andare a farsi una cultura, ora è possibile, ma nel 1600, nel 1300, nel 1200, uno che veniva come, prendiamo nel 1000 Guido d'Arezzo, Guido d'Arezzo sembra che fosse nato in un paesino dell'Alta Italia, poi si è fatto frate e è venuto in convento della Toscana. In questo convento della Toscana, perché la Toscana per motivi politici, economici, c'era già ricchezza da un punto di vista, quindi questo qui è arrivato a contatto con delle cose, si è potuto permettere di inventarsi le sette note, perché la persona era geniale come persona, però c'è stato anche il contesto storico-sociale che gli ha permesso di poterlo rendere pubblica questa cosa qui, però lui, la sua esperienza è tutta fra il paese dove è nato, il viaggio che è rifatto per arrivare nel convento a Arezzo dove ha fatto questa cosa e poi lui è vissuto sempre lì, cioè la posta non c'era, internet non c'era, per cui queste erano delle grandi persone, geniali, facevano queste cose, però la loro preparazione era enorme per i tempi di allora, ma ora come ora, quando io prendo un libro che parla di strumenti musicali o di musica antica, per me è un problema anche capire, ripeto come ho detto prima, c'è degli strumenti che in questi pochi testi che non ci sta a disposizione, strumenti diversi chiamati con lo stesso nome e strumenti uguali chiamati con nomi diversi e non ci se ne tira fuori le gambe, dove ci se ne tira fuori le gambe? Dove accanto a questi scritti c'è anche una miniatura con accennato il disegno dello strumento, allora si può capire a che cosa si riferisce, se no si basa su un discorso, un testo in cui si dice, la viella, allora la viella è una viella, è una cordatura di una lira, la cordatura di una viella, è una rivega, cioè capito? La rivega ha tre corde e ora ve la farò vedere, ve la farò vedere, ve la farò vedere perché tanto ce l'ho tutte, questa qui è una rivega che invece ha un suono, secondo la chiesa, diabolico, questa, e questa è la viella di sesto, questi sono i due strumenti di sesto, ora anche questi che chiaramente sono tutti scordati perché avendo le corde di budello è rimasto con il, però per dire no, questa invece è la rivega, da un punto di vista funzionale sono identiche, questa c'è un suono nasale, molto, perché è piccolo come cassa, vedi? E poi c'è la lira, la lira, questa è la lira, odio, questa è la lira di giotto, scusate la polvere ma qui lavorando, ecco, questa è la lira di giotto che ha tutta un'altra cordatura, questa c'ha due bordoni che vibrano in simpatia, insomma c'è tutta una serie di cose, quando si parla di vielle, poi di fatto vengono indicate tutte insieme, la ribecona è una cosa più grossa, è una cosa veramente difficile arrivare a trovare la, a fare un parallelo, diciamo negli studi proprio di storia della musica, c'è, certo, c'è una attenzione anche a questi strumenti, sì, 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 certamente, no, no, perché non c'è problemi, da quel punto di vista lì, di scritti erano fatte tante, parole erano citate, poi di fatti però, di fatti sono poi, comunque detto questo, ma diciamo voi, è il nostro lavoro, come dire, che viene apportato soprattutto ai musicisti, o vengono anche studiosi a vedere, a chiedere, ma gli studiosi no, gli studiosi sono un pochino più altezzosi, loro sono studiosi, sono miei artigiani, loro li portano una sega di che si dice noi, loro basta essere un content ticcherino, loro si portano una sega, gli studiosi, no, a parte di scherzi, bisognerebbe lavorare insieme, però loro sono, capito, sono laureati, possono abbassarsi a venire da sposcarsi le mani, cioè qualcuno lo fa, a parte le battute, però no, di fatto, di fatto, hai dei contatti, delle amicizie, degli scambi, anche con il settore degli studiosi? No, no, non ce li ho, lo dico subito, non ce li ho, ho delle persone che sono delle persone che hanno fatto scienza, hanno professori, hanno insegnato fisica all'università e cose di questo tipo, che e con cui si partecipa su alcune cose, più che altro a livello teorico ci si scambia delle idee, però non sono ufficialmente di mondo della... Quindi è più sull'aspetto, diciamo, fisico-materiale? Sì, sì, si fa tutto noi, qui è tutto il lutaico che fa tutto, fa da progettista, da inventore, da quello che propone, per esempio, come sono fatti gli strumenti dentro, non si vede, perché poi dopo gli strumenti devono sopportare la pressione delle corde, senti qui, questa qui è l'anima che io ho allentato le corde perché non può stare, se non viene suonata, non può stare accordato lo strumento e allora l'anima è cascata, quindi ora io prima, quando la luciderò per portarla al Comune di Firenze, dovrò rilizzare l'anima, incastrarla e poi accordare lo strumento. Queste sono tutte scelte tecniche che fa l'artigiano di sua spontanea volontà, se tu chiedi ai professori, non tiri fuori le gambe perché cominci a fare tutti i calcoli sulla lavagna, ma a noi c'è bisogno di una cosa pratica, perché nel Medioevo i musicisti si costruivano gli strumenti da soli, questo liuto qui... Ma c'era la separazione? Sì, c'era, ma mettiti nei panni, c'è un liutaio a Lucca, uno che è a Siena, e gli serve il liutaio e si arrangia da sé, capito il discorso? Un po' meno andare a Lucca nel 1200, che magari c'era anche la guerra, non sapeva nemmeno se riusciva da riavvivo, ci pensava nemmeno, se non c'aveva un liutaio lì nelle vicinanze, lo strumento se lo riaccomodava da sé, è chiaro, è normale, capito il discorso? È una cosa ovvia, il Medioevo non era così che una si piglia la macchina o l'aeroplano e dopo dieci ore siamo da quell'altra parte del mondo, partire fuori per dire, magari c'era anche la guerra fra Firenze e Siena e c'era la guerra a Montaperti, lui doveva attraversare il campo di battaglia per andare a trovare un liutaio, ma non si proponeva nemmeno una cosa di questo tipo. Ci sono dei musicisti, che uno mi sembra Sting, che risuone il liuto per esempio e che ha proposto delle musiche moderne suonate con il liuto. Questo di fatto avviene sempre perché quando uno suona uno strumento, un pezzo moderno come il violino, il violino è stato aumentato nella seconda metà di 500, quindi di fatto, capito? Lo stesso utilizzo di strumenti popolari tipo la lira turca o la lira calabrese, in un contesto moderno si può utilizzare. Se uno fa una musica con delle contaminazioni può benissimo fare un pezzo mediterraneo con l'oud arabo, con la viella, lo può fare. Ora, se tu mi dici che lo fanno tanti, no, francamente no, però ci sono delle persone, dei musicisti particolarmente illuminati, che fanno una ricerca meno standardizzata, perché ora di fatto, vedi, lavorano nel computer e poi dopo c'è il sintetizzatore che gli tira fuori la chiavetta dove c'è tutta la musica, invece prima era tutta una questione di prove, capito? Fai entrare il tamburo ora, aspettano, provo a fare questo pezzo, entra con, capito? Il discorso con un violoncello, oppure usa, è diverso, ora è tutto più computerizzato, però c'è qualcuno che veramente lo utilizza questi strumenti, ci sono, basta andare a cercare anche su internet, su YouTube, fanno anche musica moderna. Ora veramente c'è anche dei gruppi che sono riusciti a infrangere, diciamo, questa aura di intoccabilità della musica classica, in cui il musicista che sono il violoncello e il quartetto devono essere tutti ben inquadrati, sempre a sedere sulle cose con gli spartiti davanti. Ora si vede dei pezzi proposti in maniera più intelligente, secondo me, perché poi dopo alla fine, non so se voi avete ascoltato una musica classica sulla radio, no? Noi quando si lavora qui ci sa la radio tendenzialmente accesa sempre. Siccome ci sono due canali che fanno la musica classica, 24 ore su 24 ore di musica classica, dopo 20 anni che lo fanno, cioè un sano più che manda, c'è capito? Addirittura viene fuori che c'è un disco a 45 giri o a 33 giri di una registrazione, la sparo, di una suite di Male, Rodirossini registrata dai coso, diciamo, dall'orchestra nazionale di Bucarest nel 1956, cioè, capito? Tirano fuori queste cose perché proprio, se no veramente, rimanda sempre la solita cosa e quindi tu capisci che questi strumenti vanno utilizzati ora anche per la musica moderna, cioè è finita la storia di riproporre solo la musica che è stata fatta quando furono inventati gli strumenti, perché gli strumenti sono stati fatti, perché i musicisti avevano delle esigenze, il contrabbasso, c'è stato dei musicisti che hanno detto c'è bisogno di un registro basso sull'orchestra perché la mia musica, se no, la non sta, arriva lì e manca, allora è stato inventato il contrabbasso, capito? Perché il contrabbasso è uno strumento enorme che per costruirlo non è che uno se lo può tirare fuori dal capo, ci vuole un musicista e dice guarda io ho bisogno di uno strumento di questo tipo, allora il liutaio progetta un contrabbasso, capito? E' così che è nato il contrabbasso, ma è così che sono nati tutti gli strumenti, se il musicista non ha delle esigenze la liuteria si ferma, capito? Invece se uno è fantasioso, va oltre, si possono inventare degli strumenti anche nuovi, venissero dei musicisti a dire io avrei delle esigenze, si potrebbero costruire insieme questi strumenti, più che con gli studiosi, che io degli studiosi mi sono sempre fidato un po', con i musicisti si potrebbe veramente fare qualcosa di più. Quindi diciamo che l'idea del filologicamente corretto, per cui è quello, si fa quello e basta? No, per me no, assolutamente no. La fine del... No, 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 la scuola di teoria toscana io sono in viso dai cremonesi perché sono un eretico secondo loro, cioè dovessero il potere mi brucerebbero un piazza. Perché? Perché per il semplice motivo che per esempio io ai miei allievi non gli insegno una liuteria statica con delle regole fisse sulla parte estetica, capito il discorso? Io nella parte estetica agli allievi gli lascio ampia libertà, capito? Cioè il violino ha delle misure assolute perché non essendoci la tastatura quando il musicista arriva lì deve trovare quella nota, per cui ci sono delle misure, corda vibrante, ponticello, ma poi tutto il resto, il colore della vernice, posso insegnare io a un allievo a obbligarla a fare i colori della vernice come mi pare a me, ma sarebbe stupido. Cioè sarebbe stupido e non ci sarebbe stata tutta l'evoluzione della liuteria con i violini di tutti i colori. Cioè se vai a vedere ora la scuola di Cremona escono fuori i violini tutti uguali, tutti con la stessa vernice e quella non è evoluzione. Quello è, come dice a chi l'era, non mi ricordo, mi ricordo delle cose, non mi ricordo l'uomo di chi l'ha scritto. Cioè la tradizione è una difesa di fuoco, non della cenere, cioè non starà adorare le cenerie, capito il discorso? Noi si ha bisogno di avere cose vive. Se un allievo ritiene di fare delle punte diverse da quella che dice la scuola di Cremona, ma che le faccia? Se la cosa è bella, se la cosa è accettabile, per me va più che bene, capito il discorso? Questa è una cosa che non me l'ha perdonato, non me l'hanno mai perdonato. Ma a me l'hanno la storia del riconoscimento UNESCO, non so se quello... A me o me ne frega un cazzo. A me che... Io ho il riconoscimento della regione toscana come maestro artigiano, per me basta Ello. Quello UNESCO, non so se a loro poi, crea questa cosa di dire allora è stato riconosciuto, deve restare così. Ma quello lì serve, quella è una scusa, quella è una scusa per dire che loro si sono fermati lì, morto Stradivari, Cremona è diventata la cosa della fiera della mucca dal latte. Cioè la scuola di Cremona l'ha rifatta Farinacci nel 24, non c'era, per 200 anni non c'è stata gliuteria, quindi a me che dirci l'UNESCO mi interessa. Perché la tutela della gliuteria classica cremonese, sì, sono il primo io a volerla difendere, però a Stradivari ci si ferma, a Bergonzi ci si ferma, poi dopo, che è venuto poi dopo, io lo riconosco, gli riconosco lo stesso valore che hanno tutte le scuole di gliuteria di tutto il mondo. Capito il discorso? Perché mentre loro, sui 300 anni, stanno stati fermi, Napoli, Firenze, Milano, Roma hanno continuato a fare la gliuteria. Cioè ora che ora, questo io perché Farinacci nel 26 la voglio rifare ex novo, bisogna fare tutti i che dicano loro, cioè questa è una cosa che a me non mi convinceranno mai. E in questa scuola viene insegnato proprio una cosa di genere, la gliuteria di essere in evoluzione e ben venga un allievo che mi ritrova una sola, ragazzi, e noi si è brevettato la modifica teta, non si è brevettata, è perché un allievo gli viene un'idea mentre gli era a lavorare e si disse proviamola, se è provata funziona e noi si mette su una cosa ci strumentiamo di via teta. Sta andando, sta andando? Io la metto su tutti e non ho problemi, vendo regolarmente e chi compra gli strumenti da me è sempre felice.